Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Bolton e benvenuti all'ultima puntata appunto ragazzi quest'oggi ultima puntata di questa interminabile carriera 144 puntate ci sono volute ma oggi con ogni probabilità, anzi al 100% finirà tutto perché quest'oggi affronteremo la finale di UEFA Champions League contro il Liverpool abbiamo fatto una stagione impressionante, un rimonte incredibile in campionato e ora siamo qui appunto per affrontare il Liverpool in questa finale di Champions che potrebbe finire anche male però nonostante questo io penso che a prescindere dal risultato questa qui sarà l'ultima puntata perché poi è vero che ci mancherebbe proprio il trofeo in bacheca della Champions perché abbiamo vinto letteralmente tutto tranne che la Champions però fare un'altra stagione solamente incentrata sulla Champions secondo me è eccessivo soprattutto nel modo in cui porto io i video diciamo con una certa anche lentezza con una certa tranquillità tra virgolette ma come al solito raga prima di addentrarci in questa finale vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale per restare sempre aggiornato e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità detto ciò raga direi che non c'è più niente da dire quello che dobbiamo fare è solamente una cosa entrare in campo e affrontare il Liverpool chiaramente questa puntata non sarà solamente questa partita dopo faremo il classico resoconto di fine stagione perché è bello che è l'ultima puntata è l'ultima stagione però è giusto farlo quindi raga mettetevi comodi, mi metto comodo anch'io, sono pronto a premere X per andare avanti la formazione è pronta, ovviamente la formazione migliore possibile Van Der Wurt, Baker, Guardiol, Collins, Eris James, Kudus, Klibuf e Michael Olisa in attacco, Cholis, Jonathan David e Jeremy Doku questa qui è la squadra, sono gli undici che in ben sei stagioni abbiamo costruito sei stagioni che ci hanno portato a questa finale contro il Liverpool che si schiera con Allison in porta, poi Zimikas, Rubendias, Ferro, Alexander Arnold in difesa centrocampo con Fabinho, Artur e Nicolò Zaniolo in attacco Joaquin Correa credo, Diogo Ciota, Falso Nive e sulla destra abbiamo ancora Momo Salah Signore e signori benvenuti al Metropolitano di Madrid quindi stadio dell'Atletico di Madrid eccole qui le inquadrature bellissime, addirittura dagli spogliatoi veramente eccezionali queste immagini le squadre stanno per entrare in campo seconda finale europea che il nostro Borton affronta dopo la finale di Europa League della scorsa stagione vinta contro il Tottenham quindi un'altra squadra inglese però quest'oggi la posta in palio è molto più in alta UEFA Champions League eccola qui bellissima, spettacolare siamo contro il Liverpool che appunto è una squadra che è temibilissima in Champions è sempre un'altra storia però c'è da dire che ultimamente contro il Liverpool siamo sempre riusciti a vincere e anche alla grande però cerchiamo di eliminare ogni partita passata concentriamoci solamente sul presente, su questa partita tra l'altro noto sulla maglia del Liverpool che è arrivato a 8 Champions vinte quindi vuol dire che in questa carriera ne ha vinte tipo 3 perché se non sbaglio era 5 però potrei sicuramente sbagliarmi comunque raga qui appunto le squadre che stanno ascoltando l'inno della Champions direi che però possiamo andare avanti le formazioni le abbiamo già viste prima l'exanderanno, nostro ex ai tempi della Samp comunque raga tutto pronto batterà Diogo Giota darà a lui il calcio d'inizio tutto pronto è iniziata la finale di Champions Occhio al Liverpool a spazio Niccolo Zaniolo tocco per Diogo Giota Collins si è immolato grandissima copertura difensiva ma il Liverpool è partito veramente forte ma occhio che adesso possiamo provare a ripartire o clip buff vedi lo scatto di Jonathan David che può avanzare Jonathan David la prova Jonathan David 14esimo minuto la sblocchiamo subito andiamo a risultare sotto la nostra curva 1-0 Bolton siamo in vantaggio ovviamente gol di Jonathan David e direi soprattutto ovviamente gol in contropiede perché facciamo sempre malissimo in contropiede all'Iverpool quindi sicuramente questa qui sarà la nostra mossa vincente anche quest'oggi con ogni probabilità comunque 1-0 abbiamo sbloccato anche la finale di Champions ovviamente in gol ci va Jonathan David la nostra punta di diamante senza di lui con ogni probabilità tutte queste soddisfazioni non potevamo togliercele oggi possiamo ancora andare David è passato Jonathan Jonathan David 2-0 Bolton è stato tutto molto improvviso perché appunto abbiamo guadagnato un calcio di punizione io l'ho battuto corto l'ho battuto subito e appunto siamo riusciti a mettere dentro con Jonathan David adesso andiamo anche a rivedere tutta l'azione qui appunto Doku che batte corto per Cholis che serve ancora il compagno belga che poi passa subito da Jonathan David che sul primo palo va a battere Allison 2-0 fortunatamente il Liverpool è sempre il Liverpool e per ora stiamo riuscendo a domarlo occhio a Diogo Jota adesso ci prova il Liverpool Collins su di lui è passato Diogo Jota Van Der Wurt un altro miracolo comunque raga a parte tutto penso sia Angel Correa non Joaquin occhio qui all'Arthur che è proprio la conclusione Collins respinge riusciamo a salvarci ma il pallone resta lì siamo stati anche fortunati oggi ho la ripartenza David per Michael Olis oggi che Michael Olis è più veloce video anche da quell'altra parte Doku che sta arrivando andiamo un po' Olis va proprio dentro da Doku un altro contropiede ennesimo contropiede ennesimo gol per il nostro Bolton Jeremy Doku 3-0 Bolton contropiede veramente incredibile raga siamo una macchina da guerra contro il Liverpool ormai stiamo vincendo sempre contro questa squadra non cantiamo vittoria troppo presto per carità però qui Doku addirittura ha completamente spiazzato Allison diciamo che ha fatto anche un bellissimo tiro probabilmente anche se Allison si sarebbe piazzato prima difficilmente l'avrebbe presa comunque 3-0 segna anche Jeremy Doku clamoroso il nostro Bolton anche in finale dimostra la sua forza le occhi ancora Kudus che va dentro da David pallone un po' troppo corto ma David è più veloce e soprattutto è più forte fisicamente ancora Jonathan David per la tripletta Allison intervento miracoloso ma tiro un po' troppo centrale questa volta del nostro Jonathan ma sarà comunque calcio d'angolo Kli Buf ancora per David che la prende lui ma palla fuori e termina anche il primo tempo 3-0 all'intervallo una sola squadra in campo anche se bisogna ammettere che Van der Voort ha avuto anche i suoi grattacapi raga sto scendo fuori esattamente la classica partita che disputiamo contro il Liverpool riusciamo a segnare tanto anche con pochi tiri però anche il Liverpool riesce a costruire come al solito raga rimangono sempre con due difensori dietro quindi noi in contropiede andiamo veramente a nozze poi con il fatto che abbiamo tre attaccanti fissi in avanti ovvio che siamo sempre in superiorità numerica poi con i centrocampisti che si inseriscono come in questo caso con O'Kli Buf O'Kli Buf appunto tre contro due è successo quello che vi ho detto Ciolis Ciolis prova ad alzare il pallone David no l'ha messa fuori clamorosa occasione fallita da Jonathan David letteralmente davanti alla porta è incredibile che abbia sbagliato è più difficile metterla fuori che metterla dentro secondo me Ocio Kudus palla ancora dentro per O'Kli Buf è tutto regolare O'Kli Buf non è in fuorigioco arriva addirittura 4-0 avevo desiderato il gol del capitano ed è arrivato gol del nostro capitano appunto O'Kli Buf che segnare un gol in finale di Champions per un capitano come lui che non è diciamo neanche un attaccante è veramente una soddisfazione immensa O'Kli Buf secondo me è un altro giocatore simbolo di questa carriera sicuramente Ricky Jones di più perché siamo per i gol che ha fatto per quello che ci ha dato però O'Kli Buf vi ricordo sempre che inizialmente quando l'abbiamo acquistato la prima stagione in Ligue 2 era un sostituto e ora siamo qui a festeggiarlo per un gol in finale di Champions contro il Liverpool cioè raga è questo secondo me modo migliore non poteva esserci per concludere questa carriera sono felicissimo diciamo che è anche tutto un po' stucchevole ci sta che qualcuno non gli vada giù appunto questa vittoria perché è successo tutto forse un po' troppo in fretta alcune partite stravinte un po' troppo è chiaro che avrei potuto alzare la difficoltà però raga io volevo concluderla a leggenda sapevo che ultimate o estrema come si chiama sarebbe stato un problema intanto non ho capito questo passaggio di Cholis però appunto raga come già detto in passato vi ho sempre spiegato perché non volevo cambiare questa difficoltà poi appunto quando si doveva perdere abbiamo anche perso infatti raga questa stagione questo campionato è iniziato in modo molto molto difficoltoso quindi diciamo un merito in più alla nostra squadra e poi è chiaro che nelle prossime stagioni inteso come anche un prossimo FIFA proveremo ad alzare ancora di più l'asticella con la difficoltà massima qui un'altra chiusura incredibile di Bucker che è il giocatore più scarso di questa squadra però raga a livello di prestazioni è sempre uno dei migliori il nostro Michel Bucker che per carità vorrei sempre prendere un Afonso Davis però sicuramente merita tutti i complimenti Bucker che è cresciuto tantissimo insieme alla nostra squadra qui occhio ancora a Tour cerchiamo di non far segnare questo Liverpool a questo punto voglio tenere la porta inviolata Van der Wurth può bloccare comunque raga aspetto che il pallone esca per fare delle sostituzioni occhio qui David Olis possono scambiare una superiorità disarmante ma soprattutto superiorità numerica Chollis regalato il gol da Jonathan David 5-0 gol di Christos Chollis manita in finale contro il Liverpool è chiaro che forse potevamo anche aspettarcelo perché contro il Liverpool ormai è un'abitudine però sicuramente in finale di Champions non sai mai che cosa può succedere tra l'altro raga la finale di Champions contro il Liverpool non è la prima volta che ci capita perché anche con i West Ham in finale mincemmo contro il Liverpool e lì fu molto molto più combattuta la cosa comunque raga voglio concludere questa carriera con Ricky Jones in campo quindi entra al posto di Jonathan David stessa cosa per Tristan Knightham che entra al posto di Gudus e in campo anche Demir al posto di Michael Olis che era stremato occhio raga che siamo a recupero una prateria clamorosa per Chollis 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 occhio Ricky Jones occhio Ricky Jones occhio Ricky Jones Ricky Jones ed è giusto così ed è giusto così che l'ultimo gol della carriera sia di Ricky Jones tutti i pianeti qui si sono alienati o comunque allineati alla perfezione 6 a 0 Bolton 6 a 0 in finale di Champions contro il Liverpool raga è chiaro che è un risultato estremamente esagerato anche irrealistico però se il Liverpool gioca in questo modo è ovvio che poi ne approfittiamo anche se avessimo giocato ad Ultimate sarebbe successa la stessa cosa secondo me perché è proprio il modo di giocare del Liverpool e soprattutto è il mio modo appunto di giocare con i contropiedi tra virgolette con tre attaccanti in avanti comunque raga adesso si aspetta solamente il fischio finale che arriva adesso 6 a 0 battuto il Liverpool in finale di Champions siamo anche campioni d'Europa e adesso ci mancherebbe solamente il mondiale per club che purtroppo non è mai stato implementato su FIFA anche se effettivamente il mondiale per club è di licenza FIFA nel senso proprio l'istituzione calcistica e visto che il gioco è FIFA quindi avrebbe anche senso che ci fosse il mondiale proprio il mondiale per i nazionali c'è sempre stata la FIFA World Cup quindi a suo punto potrebbero mettere anche il mondiale per club comunque raga ecco qui che iniziano i festeggiamenti della nostra squadra eccoci qua subito al momento della premiazione il capitano sarà è Oakley Buff che quest'oggi ha segnato anche il gol del 4 a 0 c'è anche Tristan Naidham che è entrato in campo nel secondo tempo negli ultimi 5 minuti però è chiaro che questa coppa l'alzerà Oakley Buff come dico sempre per me sia Naidham che Oakley Buff sono due capitani perfetti comunque eccolo qui Oakley Buff che alza il cielo questa coppa il trofeo della Champions che è veramente bellissimo raga conclusione migliore non poteva esserci è chiaro che volevo vincere tutto ci sono riuscito in 6 stagioni quindi è anche per questo che fare una settima stagione sarebbe stato forse anche pesante raga questa questa carriera finirà finirà a luglio cioè siamo a luglio quindi è chiaro che è proprio iniziato che era fino a ottobre se non ricordo male quindi laga è ovvio che è durata veramente tanto sarebbe stato un po' troppo secondo me perché non vorrei arrivare fino a nuovo FIFA con questa carriera anzi vorrei provare a fare qualcos'altro comunque qualcos'altro che scopriremo nei prossimi giorni perché allo stato attuale non so manco io comunque adesso non è il momento di parlare di queste cose bisogna omaggiare la nostra squadra ai nostri ragazzi che ci hanno fatto veramente sognare questa carriera che ha avvicinato anche tantissimi di voi ai miei video tra piccolette al mio canale ma soprattutto raga se non fosse stato per questi ragazzi per diciamo questa tra piccolette idea di fare questa carriera con una squadra come il Bolton che parte dalla serie più bassa inglese tutto questo non sarebbe successo quindi a sto punto non posso far altro che ringraziare sia voi ma soprattutto questa squadra e questi ragazzi che sono cresciuti insieme a me e insieme a noi e raga addirittura valutazione 100 vi giuro che non l'avevo mai vista massimo avevo visto 99 100 mai vista e raga è proprio un segno del destino che doveva finire tutto così tutto con addirittura una valutazione altissima da parte del gioco stesso evidentemente abbiamo sbloccato tutti ma proprio tutti gli obiettivi allora qua abbiamo avvento tutto qua abbiamo fatto tutto qua stessa cosa stessa cosa qui idem e infine abbiamo fatto anche questo qui deve guadagnare 12 milioni dai giovani ci manca solamente il primo però era diciamo un obiettivo fallito già la scorsa stagione quindi probabilmente non ce l'ha calcolato proprio infatti valutazione 100 meno male quindi questa è anche la dimostrazione che si può raggiungere il livello 100 dell'allenatore non è fermo a 99 come sempre comunque raga allora cosa facciamo adesso innanzitutto siamo arrivati a giugno praticamente primo di giugno andrò avanti tipo fino al 20 al 21 tanto per e poi andremo a farci un resoconto totale della nostra squadra e di tutti i campionati come al solito come se fosse un tipico finale di stagione ok raga eccoci qua 21 giugno 2026 iniziamo un attimo con i campionati a meno questi qua che fanno parte comunque a cui abbiamo partecipato anche noi allora ovviamente in premere abbiamo vinto noi abbiamo già visto nella scorsa puntata se non ricordo male adesso se si carica ve lo mostro un'altra volta comunque ovviamente noi Liverpool City United in Champions Tottenham Chelsea Everton in Europa League la conferenza League non c'è ancora e alla fine in Champions Sheffield Southampton Leeds United poi allora iniziamo la Community Shield l'abbiamo vinta noi 7-0 contro il Liverpool con il Liverpool ormai è una festa veramente poi in FA Cup battuto l'Arsenal 5-1 che per noi è un'impresa praticamente poi la Carabao Cup l'abbiamo vinta noi 2-0 contro il Manchester United la Coppa Estiva vinta 4-3 contro il Siviglia poi la Supercoppa europea vinta 2-0 e rigori contro l'Atletico di Madrid la Champions l'abbiamo vinta appunto appena vinta contro il Liverpool un'altra bella vittoria per 6-0 e non 7 però è comunque un risultato impressionante l'Europa League vediamo un po' chi l'ha vinta se è sempre una squadra inglese oppure quest'anno ha vinto una squadra che non fa parte della Premier ha vinto il Milan mi fa un piacere enorme che ha battuto 5-4 il Bayern Monaco finalmente un po' di gloria anche per le squadre italiane che diciamo c'era sia la Lazio che il Milan alla fine la spuntata di Milan quindi eventualmente l'anno prossimo avremmo affrontato il Milan in Supercoppa europea poi vabbè c'è il mondiale ma a noi poco interessa sinceramente vediamo se l'Italia c'è eccola qui nel girone con il Brasile la Grecia il Camero un'addirittura comunque beh non ci interessa poi una bella occhiatina ai gol in campionato vabbè ha vinto Jonathan David abbiamo già visto la scorsa puntata anche gli assist Demir 20 17 David eccetera eccetera comunque andiamo nell'altra competizione ora il comune di Shield David miglior marcatore miglior assist Manciolis poi il miglior portiere ovviamente penso sia Van der Wurth infatti poi in FK miglior portiere Leno ma penso che questo qua ce l'avevamo visto Oglebuff 6 assist e Ricky Jones miglior marcatore dell'FK poi in Carabao Cup vince sempre Ricky Jones 8 gol 4 assist di Naidam miglior assist Man e il portiere non c'è nessuno dei nostri almeno così mi sembra sì infatti è così comunque continuiamo vediamo vabbè la coppa estiva non ci interessa la supercoppa vabbè di Abio Lisa e Cholis ovviamente poi Champions League allora miglior marcatore Jonathan David con 15 gol in 8 partite poi abbiamo a terzo posto Ricky Jones con 12 Michael Oles con 8 scendendo abbiamo Cholis con 5 gol e basta il miglior assist Man è Michael Oles 14 assist sono tantissimi poi Kudus con 7 Ricky Jones con altri 7 Docu e Cholis con 5 andando ancora più giù vediamo David con 3 e basta il miglior portiere Eoblack con 7 reti inviolate insieme ad Allison vediamo se c'è il nostro Wanderwurt si è 18 solamente due reti inviolate un po' pochine poi giusto per completezze in Europa League il miglior marcatore Vinicius del Milan poi il miglior assist Horta del Braga il miglior portiere Gigio Donnarumma che effettivamente è il miglior portiere del gioco bene fatto questo rapidissimo resoconto sulle statistiche dei campionati a cui abbiamo partecipato andiamo adesso a fare il resoconto sulla nostra squadra o per meglio dire semplicemente andiamo a leggere le statistiche allora Wanderwurt quest'anno è cresciuto di più 2 24 anni è diventato un 87 52 presenze nel complessivo 15 reti inviolate 7 tondo tondo di media voto poi Billy Stanley terzo portiere solamente una partita in premier l'ultima giornata se non ricordo male e poi due presenze in coppia in vite però vabbè lascia il tempo che trova poi Mauro Iemmello il nostro secondo portiere lui molto bene devo dire molto affidabile anche se ovviamente ha preso i suoi gol comunque due reti inviolate 7 anche per lui iniziamo con i difensori primo è Michel Barche direzino sinistro 44 presenze nel complessivo un assist in premier 6,8 di media voto per lui solamente un punto overall in più poi Garrett non ci interessa Luca Nez solamente un punto overall in più 29 presenze nel complessivo due assist e 6,7 di media voto Nathan Collins 25 anni è diventato un 85 41 presenze un assist anche in Champions e 7,2 di media voto anche un cartellino giallo poi Guardiol più 4 un 88 mostruoso 39 presenze un gol in premier 0 assist e 7,2 di media voto Lynch Sanchez un altro difensore mostruosamente forte più 4 è un 84 32 presenze nel complessivo 2 assist e 7,2 di media voto continuiamo con la Cugna Bardini più 5 che è tantissimo per un sostituto è un 82 adesso anche un gol in campionato 27 presenze 7,1 di media voto iniziamo con i terzini destri il primo è Rhys James un punto per un in più è un 87 33 presenze neanche un gol neanche un assist ma 6,7 di media voto continuiamo con Fra Cacamba più 2 79 anche un gol in Carabocup 32 presenze 6,7 di media voto iniziamo con i centrocampisti il primo è Capitano Klibouf 57 presenze nel complessivo 2 punti per un in più diventato un 87 e tanto a 26 anni crescere di più 2 in una stagione poi per lui appunto 6 gol 19 assist e 7,1 di media voto continuiamo con Kudus più 2 in 88 49 presenze 6 gol e 25 assist tanti e 7,7 di media voto Jacopino Apoli diventato un 76 11 presenze anche 2 assist e 6,7 di media voto Tristan Naidam più 2 per lui un 84 45 presenze un altro simbolo della nostra carriera appunto 45 presenze 3 gol 12 assist e 7,3 di media voto il giovane Madeira solamente 2 presenze ma un assist 7 di media voto più 3 un 68 continuiamo con Bad The Rider che non ci interessa Froyan Wirtz un 84 più 2 39 presenze anche un gol 8 assist 6,8 di media voto Max Castiello non ci interessa invece Frank Walters più 4 un 67 10 presenze nel complessivo non male anche 2 gol molto bene 2 assist 6,7 di media voto Testa non ci interessa Mancini stessa cosa Ferri Priget appena salito dalla primavera però più 5 per lui un giocatore fortissimo poi Demir 51 presenze 12 gol 28 assist anche lui un impatto incredibile sulla nostra squadra 7,1 di media voto Michael Hollis più 6 91 signori quel giocatore che è cresciuto di più secondo me in tutta la carriera probabilmente o comunque che ha avuto la crescita più esponenziale 47 presenze 27 gol 39 assist 8 di media voto poi Abraham Johnson un altro giovane molto interessante che è un 73 Musiala più 4 un 82 32 presenze 14 gol 12 assist molto bene anche lui 7,2 di media voto continuiamo con Cholis anche lui più 6 un 91 un altro attaccante mostruosamente forte 56 presenze 23 gol e 29 assist 7,2 di media voto continuiamo con il giovane Fiore per lui 9 presenze un gol e due assist e 6,3 di media voto Van Weyck sulla destra 9 presenze un gol un assist 6,4 di media voto Harvey Elliott sostituto di Doku 32 presenze diventato un 83 più 3 quindi 7 gol 3 assist 6,7 di media voto Correa un giovane che bisogna vendere non ci interessa Jeremy Doku un 87 56 presenze 22 gol 14 assist e 6,9 di media voto il giovane Prott Nils Prott due presenze anche un gol in Premier League e un assist e 7 tondo tondo di media voto Ricky Jones il nostro giocatore rappresentativo è diventato anche un 88 bellissimo Ricky Jones come lo voglio bene non avete idea 52 presenze 59 gol 28 assist 8,1 di media voto è quello qui il giocatore più bello della nostra squadra più importante più tutto e poi ovviamente concludiamo in bellezza con Jonathan David che vanta raga la bellezza di 90 gol in 50 partite disumanamente irrealistico e 28 assist anche 9,1 di media voto che cosa vuoi di più e ok raga adesso ultimissima cosa gli altri campionati e poi ci saluteremo per questa carriera che è stata veramente veramente bellissima è durata tanto però con questa carriera ho raggiunto i 100 iscritti siamo andati anche molto oltre quindi sono veramente felicissimo di ciò che ha portato fare questa serie ovviamente non me l'aspettavo è chiaro che uno ci spera sempre però è ovvio che finché non vedi i risultati uno non ci crede mai comunque raga in Ligue 1 trionfa il Paris Saint Germain con un Nizza al secondo posto molto interessante poi nelle ultime posizioni abbiamo il Lorient l'Ingers e il Metz poi andiamo avanti in Bundesliga trionfa il Borussia d'Ortum addirittura con il Lips e il Bayern Mono e il Forsberg in Champions Schalke e l'Everkusen e forse anche Ertha Berlino in Europa League negli ultimi posti abbiamo Mainz Hannover e Union Berlino iniziamo con le serie inglesi in Ligue 2 vince lo Scamforp e chi se l'aspettava con i Southern e Forest Green che salgono in Ligue 1 e poi una fra Chartlon Exeter Oldham Athletic e Rochdale andrà in Ligue 1 insieme alle altre tre poi andiamo proprio in Ligue 1 dove vince Millwall che sale in Championship insieme a Coventry e poi una fra Routon Town Peterborough il Plymouth e Sunderland poi in Championship alla fine trionfa il Burnley che fa 103 punti addirittura West Bromwich sale insieme al Burnley e una fra Brandford Nottingham Forest Bournemouth e al City poi non ho visto le retrocessioni in Championship scendono Shrewsbury Wicombe e Stock City invece in Ligue 1 retrocedono vediamo un attimo il Fleetwood il Mansfield il Donkester e il Gillingham invece in Ligue 2 ma non c'è la retrocessione comunque negli ultimi posti abbiamo l'Arroget e il Murecambe andiamo in Italia Serie A Team vince il Piemonte Calcio ovviamente Piemonte Calcio che abbiamo affrontato negli ottavi di Champions Napoli a secondo posto insieme poi ovviamente a Inter e Roma che andranno in Champions Fiorentina e Atalanta e Milan in Europa League però in realtà in Milan andrà in Champions perché ha vinto appunto il trofeo e agli ultimi posti troviamo Benevento Crotone e Verona addirittura Eredivise PSV PSV scusate campione di Olanda con Ajax in Champions poi AZ Utrecht in Europa League e poi basta perché diciamo qui poco ci interessa le altre posizioni in Portogallo trionfa lo Sporting intanto fino all'ultimo la sedia deve darmi noia poi Benfica in Champions e Porto Braga e Maritmo in Europa League in Scozia trionfa il Settic con 4 punti in più rispetto ai Rangers ma penso che stanno giocando ancora perché no 33 giornate quindi diciamo che fanno tipo 3 gironi qualcosa del genere comunque 3 gironi di andata e ritorno nel senso in quel senso no? comunque in Spagna trionfa il Real Madrid 96 punti poi abbiamo la scaletta Barcellona 94 Atletico 92 e poi il Valencia a quarto posto poi Villarreal Siviglia e Sociedad penso in Europa League nelle ultime posizioni troviamo lo Sporting Cichon l'Almeria e l'Oviedo è perfetto raga abbiamo finito anche con i campionati quindi raga io posso il joystick ecco qui vi saluto vi do appuntamento ad una prossima serie ad una prossima avventura sicuramente non finisce qua anzi sicuramente continuerò con i video e spero ovviamente sempre di potermi migliorare in tutto ogni punto di vista ma soprattutto dal punto di vista della qualità che per me è sempre bassa io ci tengo molto a queste piccole cose quindi spero nel tempo di poter migliorarmi sempre di più comunque io appunto vi saluto qua dirvi grazie è banale ma lo faccio lo stesso quindi appunto grazie per tutto il supporto che ha avuto questa serie io vi do appuntamento ad una prossima ovviamente continueremo a parlare del Bolton almeno in un prossimo video vediamo un po' se riuscirò ad inventarmi qualcosa una mezza idea ce l'ho già in mente però ovviamente non spoilerò e quindi raga io vi fermo qua vi invito a lasciare un like un commento ma soprattutto ad iscrivervi al canale noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti